Una buona giornata e che Dio benedica grandemente la tua vita e l'intera tua famiglia Oggi martedì 23 novembre 2021 ascolteremo un nuovo messaggio della parola di Dio e ti chiedo di prestare particolarmente attenzione perché il testo, la meditazione, ciò che mediteremo è veramente qualcosa di bello che io ad esempio è un qualcosa che ho molto nel cuore il messaggio che ci sarà a dire da questo calendario quindi ve lo voglio trasmettere così come ce l'ho nel mio cuore e passo subito quindi a leggere la parola di Dio che dice proprio così Egli, Gesù, uscì e notò un pubblicano di nome Levi che sedeva al banco delle imposte e gli disse seguimi ed egli lasciata ogni cosa si alzò e si mise a seguirlo Levi gli preparò un grande banchetto in casa sua Testo che puoi trovare nel Vangelo di Luca, capitolo 5, i versetti che vanno dal 27 al 29 e il titolo di questa meditazione biblica è proprio questo Levi gli preparò un gran banchetto Il primo pasto documentato da Luca nel suo Vangelo è quello proprio che Levi offre a Gesù Alla sua chiamata Levi, esattore delle imposte per conto dei Romani lascia il suo lavoro e le sue abitudini per seguirlo Poi subito dopo aver intrapreso questo nuovo cammino organizza in onore del Signore un banchetto al quale partecipano persone di ogni estrazione fra le quali alcuni farisei I farisei, il cui nome significa separati erano dei religiosi soddisfatti e compiaciuti di se stessi Per loro non era concepibile la possibilità di mettersi a tavola con persone che non osservassero la legge di Mosè nei minimi dettagli Con questo preconcetto loro cosa facevano? Scrutavano e criticavano aspramente chi osava farlo Quindi quando hanno detto ai discepoli Ma perché mangiate e bevete con i pubblicani e con i peccatori? Gesù gli rispose e gli disse Ascoltate bene, non sono i sani che hanno bisogno del medico bensì i malati Io non sono venuto a chiamare dei giusti ma dei peccatori al ravvedimento Vangelo di Luca, capitolo 5, versetti dal 30 al 32 La risposta di Gesù getta una luce inaspettata sulla sua missione Il suo scopo è di salvare e guarire coloro che sono malati Infatti chi si crede in buona salute non pensa di aver bisogno del medico Mentre chi sa di essere malato lo cerca e si affida alle sue cure Quindi l'affermazione di Gesù ha una portata spirituale Il primo passo per incontrarlo è riconoscersi malati In altre parole, consapevoli delle proprie colpe e del proprio fallimento morale cerchiamo il dottore per eccellenza Il secondo è confidare in Gesù affinché ci accordi il perdono e ci liberi dal giudizio di Dio In seguito, proprio come Levi, potremmo condividere con altri la gioia di conoscere il Salvatore magari invitandoli a una lettura della Bibbia o a un incontro di preghiera o a una cena a casa nostra Domandiamo al Signore di aprirci delle porte per poter testimoniare di Lui perché se iniziamo a far questo io ti garantisco una cosa che questa preghiera sarà esaudita istantaneamente All'inizio di questo video ti ho preannunciato che questo argomento è un argomento a me molto a cuore e te lo dico subito perché perché attraverso questo testo attraverso questo evento questa cosa che Levi organizzò il Signore un giorno parlò al mio cuore e anche al cuore di mia moglie ovviamente e ci diede una visione eravamo in Veneto stavamo osservando il Signore e da un certo punto Dio ci fece vedere proprio come questo banchetto questa cena, questa mangiata potesse essere motivo di parlare di Gesù ad altri infatti iniziamo con due programme uno è quello che chiamiamo cena evangelistica invitavamo i nostri amici invitavamo dei colleghi invitavamo i vicini di casa e mi ricordo in modo particolare i nostri vicini di casa che invitavamo a cena poi ci siamo conosciuti abbiamo parlato del Signore sono venuti alla riunione di preghiera e poi il Signore ha fatto un'opera meravigliosa nella loro vita hanno aperto il cuore a Gesù e la loro vita è cambiata Nicolina, Pino oggi vivono nella fede glorificano il Signore e non solo hanno aperto la loro casa alle riunioni di preghiera abbiamo fatto delle riunioni straordinarie in casa loro ecco questo per dirti cosa che puoi usare questo strumento quindi una cena per poter parlare di Gesù non per essere assillanti e fare chissà quali cose ma solamente pregando prima di mangiare è una testimonianza chiedere a Dio di benedire le persone che è a tavola chiedere a Dio di benedire i cibi ringraziare per i cibi è un motivo di testimonianza perché la gente di fuori non le fa queste cose quindi vedrà in voi vedrà in te qualcosa di bello qualcosa che forse loro vorrebbero avere pure e questo è uno poi l'altra cosa abbiamo organizzato l'agape evangelistico ossia ci riunavamo 5-6 famiglie di credenti 10 famiglie di credenti ed ognuno di noi invitava qualcuno un amico un parente un conoscente ecco che allora si diventava parecchie abbiamo fatto delle agape evangelistiche con più di 60 membri lì sopra mentre eravamo in Veneto e Dio ci ha fatto vedere la sua gloria quindi anche questo può essere uno strumento per poter parlare di Gesù poter annunziare ad altri che Gesù è veramente risorto dai morti e che può salvare può liberare può guarire può parlare e può fare ogni cosa detto questo io concludo perché non è uno studio questo sull'evangelizzazione ma è un messaggio Levi fu chiamato iniziò a seguirlo e poi gli organizzò un banchetto in casa sua con tutti i suoi colleghi e con altre persone erano tanti in casa e in mezzo a loro c'era Gesù che parlò ai loro cuori penso che il messaggio l'hai ricevito Dio ti benedica e che Dio possa darti grazie di essere fruttifero nell'opera sua a Dio sia la gloria e pace del Signore a Dio sia la gloria 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 a Dio sia la gloria